Ciao a tutti ragazzi, io sono X09 e oggi siamo in un nuovo video di Rocket League dove faremo una partita a doppio. Oggi non so nessuno, sono da solo e perciò bisogna fare la compagnia. Vi ricordo, se volete altri video di questo genere scrivetelo nei commenti. Ma pochissime persone stanno giocando. Stai iniziando. Subito, attenzione. Che palla tu, è una pesa malissima. La sto con il prende? No. Bella. Subito, iniziamo bene, 1-0. Che fortuna. Dai, perché c'è andato pure il mio compagno? Via, l'ho presa. Perché mi spinge se non tengo d'urbo? Bella. Subito. Un altro col suo. E ho fatto 0 punti, non si sa come. Uh, bel passaggio questo. Subito, 3-0. No, 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 è pesa malissimo. Prendi là. Oddio, di quanto. Non c'è gente che entra a caso. Subito, 4-0. Non c'è, però. Da qua posto il mio compagno che ho trovato. Ma tanto posto. Cos'bogliato io. Ma tanto sbogliato io qua. Non c'è. No. No. Non c'è fatto qui. Non c'è fatto pure il mio compagno. Mamma mia, il mio compagno è troppo forte. di quanto e i miei compagni si vuole fare autogurla ma è stata alzata è stata alzata eh signor i miei compagni ma troppo forti ma tanto forti ma per me sono sopra nella terrazza non ho parole le persone manco si arrendono quello di poco mamma mia quanti ne stanno sbagliando ma adesso stavano vincendo allora un botto a un botto ah qua ha una porta ma è questa gente che entra e esce no che ha preso no come ho fatto? ma che se no facendo io lo stai buona non a caso vai 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 spazio bella compagna ma dove l'ho spunto male dai pensavo che l'ho perso non riuscivo a prendere ne manco vai vai non li faccio segnare dai dai che è finita quasi la partita e noi abbiamo vinto io con sofferenza e il mio compagno è troppo forte cosa fa? cosa fa? l'unica cazzata che ha fatto il mio compagno questa cosa ha fatto questo liscio e poi la persona non è sempre culo godo io che non la piglio ragazzi potrei dire che il video sia finito qui vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e mettere un mi piace a questo video ciao